Queste sono le nuove Zumberland L-Cup, una scarpa da ferrata avvicinamento che mi ha veramente sorpreso sotto tanti punti di vista. Adesso insieme ne vediamo pregi di effetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Zumberland L-Cup, perché forse la cosa che più mi è piaciuta è tutta la scarpa. Parliamo di una suola Vibram Mega Grip con un tassello abbastanza basso, ma con una climbing zone nella parte anteriore veramente enorme. È una climbing zone talmente enorme che quando andiamo a lavorare di spalmo, di punta, è veramente una goduria. La scarpa tiene veramente bene, anche su roccia particolarmente unta, tiene benissimo. Io ci ho fatto un canalino in discesa, quel fiumiciatolo che passava in mezzo alla roccia ha tenuto veramente bene. Una suola che mi ha veramente sorpreso per il suo grip, una tenuta veramente pazzesca. Dove però non tiene è su tutto quello che è il fango. Sul fango, avendo un tassello così piccolo, così basso, non è il suo. Ma davvero questa scarpa su roccia dà il meglio di sé e vi assicuro che come grip è davvero tanta roba. Passando alla parte dell'intersuola, qui troviamo un'intersuola in eva, a doppia densità. Un'intersuola che innanzitutto è semirigido, quindi ci dà comunque un ottimo supporto quando andiamo a camminare. Un'intersuola abbastanza basso, quindi non ci andremo a fare delle escursioni troppo lunghe, soprattutto non ci farei troppi chilometri. Un'intersuola però che davvero grazie alla sua rigidità e alla climbing zone che abbiamo visto prima, ci aiuta tantissimo. Andiamo a fare delle vie ferrate e andiamo a fare dei sentieri veramente tecnici. Un'intersuola che per questo tipo di calzatura è veramente un must. Arrivando alla parte superiore della tomaia iniziamo dal puntale, per cui troviamo un puntale veramente rigido. Un puntale che anche se ci prendete a calci la roccia non vi farete assolutamente nulla. Tutta la tomaia poi è divisa in due. Troviamo nella parte inferiore tutto un fascione in gomma che corre a 360 gradi attorno alla scarpa, che ci protegge da eventuali urti con le rocce e protegge anche la tomaia. La tomaia in sé è in pelle, una pelle da 1.6-1.8 mm, una pelle che non ha una membrana ma ha un trattamento idrorepellente, quindi diciamo che se dovesse prendere una pioggia l'acqua comunque alla lunga tenderà ad entrare. Una tomaia che dal punto di vista della traspirabilità fa il suo, diciamo che non è sicuramente il suo punto forte, non è nemmeno così pessima perché appunto non avendo una membrana impermeabile, un po' di traspirabilità c'è, diciamo che è un pochino nella media, ecco sì. Sicuramente non è tra i suoi punti di forza. Parlando invece del tallone, qua troviamo un tallone veramente molto strutturato, però anche molto imbottito. Un tallone che mi è piaciuto molto anche sulle discese più tecniche, dà un ottimo supporto. La sua imbottitura ci aiuta molto anche quando andiamo su sfasciumi, su roccia, lì davvero ci aiuta davvero tanto. E parlando di allacciatura e linguetta, troviamo una linguetta a soffietto, quindi comunque molto sottile, un'allacciatura che corre veramente fino in punta alla scarpa. Un'allacciatura perfetta con la quale possiamo sblocciarci benissimo la scarpa attorno al nostro piede e dato che corre veramente fino in punta alla scarpa, ci garantisce una precisione d'allacciata senza uguali. Per quanto riguarda la grandezza di queste Zambera nel cap, diciamo che la zona dell'avampiede è abbastanza affusolata. Non è una scarpa del tutto stretta, diciamo che secondo me provarla non è mai una cattiva idea. Un mezzo numero in più rispetto alla media sicuramente non fa male. Arriviamo dunque a capire a chi consiglia queste nuove Zambera nel cap e dove utilizzarle. È una scarpa che vi consiglio utilizzare principalmente su roccia. Grazie alla sua forma affusolata, questa climbing zone è veramente grossa, la sua suola Vibram Mega Grip è una scarpa perfetta per quando deve andare su roccia a fare dell'arrampicata semplice, delle vie ferrate. Non è una scarpa che prenderei per fare dei trekking classici, magari fare dei trekking anche su sentieri battuti, su sentieri dove ci può essere del fango. È una scarpa da prendere, portare su roccia e divertirsi a lavorare di punta, divertirsi a fare tutti quei passaggi tecnici dove ci vuole precisione. Lì veramente è dove questa è il cap da sicuramente in meglio di sé. Infine arriviamo al prezzo perché qui parliamo di una scarpa da 210 euro, un prezzo un pochino più alto probabilmente rispetto alla concorrenza, però tenete conto che parliamo di una scarpa 100% made in Italy. Parliamo di una scarpa che anche dal punto di vista della qualità dei materiali sicuramente andrà avanti a lungo, risuolabile. Una scarpa che magari farete una spesa alta iniziale, ma che vi permetterà di andare avanti veramente tanto nel tempo con gran soddisfazione. Etto, ciao ragazzi, la speranza sia stata esaurente e esaustiva anche per questa recensione. Vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!